Presidente Maddaloni, quante queste manifestazioni possono essere una risorsa economica per il settore? Una risorsa è un'opportunità per gli addetti ai lavori, per i cantieri, per l'utenza, per l'economia in generale? Molto. Non c'è dubbio che la nautica da riporto, più in generale la risorsa mare, tutto quello che gira intorno al mare, anche il turismo, sono gli attu prevalenti degli asset economici sui quali possiamo puntare per un rilancio della nostra economia che indubbiamente vive un affanno complessivo e dove peraltro in prospettiva alcuni settori fanno difficoltà a stare sul mercato, altri settori possono invece sviluppare potenzialità anche occupazionali in crescita, è un trend esponenziale positivo, sia per l'utenza locale ma soprattutto perché la cantieristica da riporto, campana, napoletana, ha le carte in regola per stare sul mercato internazionale, come ci sta ovviamente, in un momento complicato per il mondo intero, per l'economia intera, sostenere queste iniziative è un elemento importante per riconfermare e ribadire la centralità della nautica, della cantieristica. La scelta di Baia è una scelta che quando mi sono confrontato con gli organizzatori di questa manifestazione è una scelta che mi ha trovato pienamente convinto, peraltro va a onore dell'amministrazione locale aver compreso l'importanza di queste manifestazioni e mi risulta che la collaborazione del Comune di Baia su questa iniziativa è stata un'attenzione, una collaborazione importante.